Buona a tutti raga dal vostro Zcastle, bentornati alle video recensioni di Il Trono del Re Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, non perdetevi neanche un video di Il Trono del Re perché sì, è giusto, dovete farlo Il fumetto di cui vi parlo oggi è un piccolo classico Batman Gotham by Gaslight pubblicato da Panini Comics BOOM Allora Gotham by Gaslight non è solamente il primo S-word di Casa DC Comics ma anche un precursore di un certo modo di concepire i supereroi, i comics americani in generale che ha generato poi numerosi figli Torniamo alla fine degli anni 80 con la rivoluzione di Frank Miller e il suo ritorno del Cavaliere Oscuro che è ancora ai massimi livelli di attenzione La fiamma dell'intuizione però in questo caso arriva dall'allora editor DC Mark Waid un nome che i fan del Trono del Re conoscono peraltro benissimo che con il suo collega Brian Augustin che diventerà poi lo sceneggiatore di questo titolo immagina non la solita storia speciale magari piena di cameo, team up, di grido per l'edizione annual che gli era appena stata affidata bensì immagina intelligentemente di proporre finalmente qualcosa di alternativo ma alternativo è stato anche il punto di vista di Frank Miller già citato con questa sua prospettiva particolare ma in questo caso il punto di vista è ancora diverso a sua volta non vuole fornire una versione caratterialmente o attitudinalmente diversa alternativa del Cavaliere Oscuro bensì fare un Batman ambientato in una realtà alternativa in questo caso la fine dell'Ottocento e se Batman rimane il più grande detective al mondo beh questa ambientazione chi può essere un avversario degno del suo acume e delle sue capacità? beh naturalmente Jack lo squartatore e così nasce questa collana Elseworld che tra l'altro ha come caratteristica proprio quella di raccontare storie di supereroe ambientate in altri mondi, altre realtà, nuovi contesti un progetto che ha generato numerose altre opere sempre affascinanti pensiamo ad esempio a Kingdom Come o a Superman Red Son di Mark Miller e non solo in casa DC pensate a Marvel 1602 di Neil Gaiman nasce quindi un fumetto che ha visto poi la luce nel 1990 che è diventato un piccolo cult anche perché ai disegni troviamo uno strepitoso, realmente strepitoso, Mike Mignola che in qualche maniera non è ancora coinvolto in quello che diventerà poi il suo cult, Hellboy ma che è perfetto, veramente strepitoso per queste atmosfere vittoriane e tra l'altro potenziato, iperpotenziato dalle pesantissime chine di P. Craig Russell e dei colori di un assolutamente ispirato David Hornung Gotham poi di fine 800 non è poi così diversa dalla Londra vittoriana ok? Poi insomma Gotham ha sempre avuto queste influenze un po' europee però si stupisce di quanto questo Batman quasi steampunk sia assolutamente naturalissimo Neonato Cavaliero Scuro qui dovrà battersi in duplice versione per smascherare l'assassino che terrorizza la città lo dovrà fare nei panni del vigilante appena nato Batman e poi anche come Bruce Wayne che sarà accusato di essere l'autore di questi delitti Diciamoci la verità adesso Allora, l'indagine non sarà ricchissima ed incredibilmente avvincente la soluzione del caso arriverà abbastanza presto e senza grandissimi twist e narrativi abbiamo anche letto di meglio l'universo di Batman ma l'ambientazione, l'idea, il tono della storia e anche il futuro successo di Mignola hanno generato un caso editoriale che ha anche generato un seguito ovvero padrone del futuro la seconda decisamente più steampunk e tradizionale storia del Batman con il bavero alzato del mantello e successivamente anche un lungo e dispiegabile silenzio rotto solo poi di recente con il recupero di questo buzz appunto interdimensionale del 2008 e nel 2015 con le due storie che chiudono questo volume che francamente sono anche abbastanza dimenticabili vabbè per fortuna c'è stato un film omonimo di animazione nel 2018 decisamente ben fatto che vi invito a recuperare e che ha continuato poi l'eredità del character capiamoci ormai c'è un Batman per tutte le stagioni ma quello di Gotham by Gaslight resta ancora oggi dannatamente affascinante ricco di potenzialità sarebbe ora che arrivasse anche un degno seguito di quest'opera che oggi ci ripropone Panini in questo volume cartonato lo vogliamo personalmente credo che ce lo meritiamo anche non sono mai sazio tra l'altro io di What If Hellsward se riuscite tra l'altro recuperate Justice League il Chiodon super storia in un mondo in cui non esiste Superman e la Justice League è praticamente vista con sospetto nel resto del mondo una roba da Warren Ellis ai tempi d'oro ok tra le tante versioni di Batman esistenti questa chiamiamola vittoriana anche se è abbastanza improprio visto che è ambientata in America è ancora oggi potentissima voglio tutto il cast delle storie di Bats farsi strada nella vecchia Gotham voglio che quell'idea geniale e seminale sia rispolverata ma con cura già il sequel padrone del futuro in cui Bats dovrà affrontare questo super criminale visionario durante l'esposizione universale scritta sempre da Augustine e disegnata splendidamente da Barreto strizza l'occhio ad una continuity potenziale che purtroppo però non si è mai verificata chissà che non si è veramente arrivato il momento Gotham by Gaslight rimane un piccolo classico batmaniano storicamente importante sicuramente sempre piacevole da avere nella propria bat collezione che vi consiglio adesso tra l'altro vado a cercare un action figure di Batman così perché lo voglio ho deciso che me lo merito e lo voglio volume cartonato di panini 26 euro questo è Batman Gotham by Gaslight di Augustine Mike Mignola Pickle Grassley Eduardo Barretto ed è sicuramente un pezzetto di collezione molto buona per la vostra bat libreria ci vediamo alla prossima ragazzi mi raccomando lasciate un like commentate condividete e sempre puntuali al trono del re ciao